Oggi è il 12 settembre 2018, mercoledì, siamo su CiperTV come al solito da Crossit Bilizio e partiamo subito con il riscaldamento della classe di oggi che consisterà in 1000 metri sul rower. Mi raccomando, mantenete una cadenza media, quindi diciamo intorno ai 2 minuti, 2 minuti 10 per 500 metri. È un buon metodo per riscaldarsi. A seguire il Burgner Warm Up completo, questa volta solamente con il PVC perché subito dopo ci saranno 10 minuti E-MOM nei quali eseguiremo 20 double unders seguite dalla 3 position snatch, quindi lo snatch fatto nelle 3 posizioni, cioè da sotto il ginocchio, sopra il ginocchio e hang. A seguire abbiamo il solito WOD. Quest'oggi abbiamo 5 round for time dove avremo 3 minuti on e 3 minuti off. Il round consiste in 9 burpees, 7 power snatch, 5 bar muscle up. Per quanto riguarda pesi e carichi trovate tutto nella grafica qui di fianco. A domani!